Con Soldato hai lasciato un'impronta perché comunque non solo hai raccolto le redini di un grande autore ma hai saputo portare la storia più avanti. È stata un'esperienza che ti ha insegnato tanto e che ti ha anche dato tanto. Sì, poi soprattutto era non scontata perché i due sistemi produttivi sono così diversi che ovviamente io almeno sono partito con la paura di perdere un po' la specificità che paradossalmente è il motivo per cui ti chiamano, però vista la complessità proprio industriale del sistema americano è una delle prime cose che rischi di perdere. E lì sono stato bravo ma anche fortunato a riuscire a mantenere una mia visione molto precisa, molto specifica all'interno di un contesto che ovviamente produttivamente è più complesso. Quindi se lo vedo oggi è un film che ritengo proprio mio al 100%. Il lavoro sui luoghi e sul modo in cui racconti i luoghi è sempre notevolissimo a parte i personaggi che sappiamo, però mi piace l'idea che c'è un lavoro di scouting molto forte che tu fai penso in modo accanido e anche quasi successivo. Che viaggi hai fatto per questo film ma anche per altri film? Quanto ti piace esplorare? Quanto è importante per te il lavoro sul territorio? Ma penso sia fondamentale. Molto spesso il territorio non è soltanto un ambiente naturale, una location, è un vero e proprio mondo che va esplorato. Ovviamente se hai la presunzione di volerlo raccontare devi conoscerlo. Per cui trovo che sia, soprattutto per il tipo di cinema che faccio io, sia uno degli elementi fondamentali, quello che ti dà realismo e che se vuoi anche, pur intrattenendoti, ti apre delle finestre sul mondo. Sul mondo che magari non conoscevi così come ti verrà mostrato nel film. Hai anche vissuto qualche avventura particolare o bella o estrema o a un certo punto ti è capitato di dire che forse non so se sono la persona giusta qua. Ma quello praticamente sempre, da romanzo criminale a Gomorra, Suburra, devo dire, mi sono quasi sempre ritrovato in o luoghi o situazioni piuttosto scomode. Però quello penso che sia poi parte anche del mio lavoro e forse ti dà anche, come dire, che testimonia la giustezza dell'intuizione, perché arrivare con dei film o stare in luoghi scomodi, penso a Gomorra ma penso anche a 000 dove abbiamo avuto dei problemi in Messico, l'autorità locale. Cioè questo accanimento di cercare di raccontare la realtà nei posti dove è avvenuta, però ovviamente trasformandoli in un grande spettacolo cinematografico o televisivo è chiaro che ti porta a vivere delle situazioni di disagio. A me piace moltissimo viaggiare, viaggio tantissimo, però in realtà sono pigro, cioè è una cosa proprio, se sono pigrissimo, cioè vorrei stare sempre come sdraiato sul divano, qui al mare per esempio. Quindi il posto dell'anima in tutti questi viaggi l'hai incontrato? Ma sempre casa, quindi Roma.